Per me è molto importante in un mondo del lavoro. Perché oggi è stato un po' più lungo, perché si va in un dispo più lungo, si va in un'altra parte. E io, quando si va in un pizze, per me il suo tempo potrei prendere la ferra e stare a fare pizze che per me è il massimo. Iniziamo a fare un sito, in cui siamo arrivati a lavorare a lavorare a lavorare, sono contento di studiare e studiare a lavorare. Abbiamo fatto pezzi che sono stati unici, con un'attività, con un'attività, con un'attività, con un'attività e con un'attività. dall'aralto. Abbiamo questa bella per sé che con lui sproduce il sciore sport a Ciasa in toque di cultura ladina.